Ho attraversato la storia di questo paese. Ho insegnato ai giovani a divertirsi con i loro padri, ma non sono solo un gioco. Da 120 anni sono una disciplina che accende la passione negli occhi di chi mi frequenta, anche quando la fronte racconta una vita di fatica e di lotta incessante. Raffa, volo, petanca, beach e boccia paralimpica sono la declinazione di un solo valore che accoglie sportivi e agonisti nella conquista del boccino in una competizione dal sapore antico di merito e amicizia. Non conosco moda, ma tesso l'intero stivale avvicinando metropoli a municipi. Ho solo una certezza, finché l'uomo vorrà gioire insieme, le mie bocce continueranno a rotolare, colpirsi, allontanarsi come i pianeti di questo universo. Così, da 10.000 anni fino alla fine del mondo.